guerto di santa cruz 26 di settembre 2013 siamo all'isola di tenerife cerchiamo un ristorantino in questo piccolo piccolo non ho diritto di dire piccolo e non so quanto sia grande questo paese questa città sembra un po un borgo molto salite e discese molti ristoranti musica gente gruppi di persone che dicono ho la quando ti vedono senza conoscerti molto bello molto sereno molto turistico bimbi oggi ho fatto il mio primo chiamiamolo bagno nell'oceano atlantico alla prossima